Sono sempre più preoccupati gli esercenti fanesi per l'ondata di furti che non accenna a fermarsi nella città della fortuna. La notte scorsa i ladri hanno preso di mira altri due negozi in pieno centro storico. Il primo colpo è stato messo a segno nella parrucchieria cinese Doremi in via Lavolini. I malviventi che hanno fatto eruzione nel locale sfondando la vetrina hanno rubato il fondo cassa che conteneva poche decine di euro e qualche rasoio. Poi i malviventi si sono diretti verso la gastronomia Ivan e Ivan in via Montevecchio dove hanno tentato di rompere la porta a vetro ma per fortuna non ci sono riusciti e se ne sono andati a mani vuote. Quando sei accorto questa mattina? Mi sono accorto questa mattina quando sono andato al lavoro che erano le 6 meno 5, le 6 e ho trovato il vetro rotto e ho chiamato subito la centrale di Carabinieri denunciando il fatto perché mi sembra logico denunciare il fatto anche perché ultimamente sono tanti episodi. Secondo lei con che attrezzo hanno tentato di sfondarla? Io sinceramente ho chiamato il vetraio e non è che abbiamo stabilito anche con la polizia scientifica quale arnese sia stato usato. Probabilmente potrebbe essere anche uno scarpone da uomo pesante dato centralmente come magari una punta di un cacciavite grande puntirolo per cercare di aprire un attimino anche le mostrine della porta oltre che rompere il vetro. Mi spiegava che qui non ha un sistema di allarme? Allora in questo locale in questo momento non mi sembra il locale che abbia bisogno di sistema di allarme però dato che c'è questo danno vedremo poi in futuro se c'è anche questo bisogno di questo sistema insomma. Non è escluso che la banda possa essere la stessa che nei giorni scorsi aveva agito ai danni di altri locali della zona come quelli assediati nella notte tra mercoledì e giovedì tra cui il bar Cicogna in Vienaudi, il total air grave di via Papiria e il distributore di carburanti IP situato lungo la superstrada tra Fano Sud e Bellocchi. Sono entrati l'altro ieri notte verso le 4 e mezza, hanno forzato la serratura della serranda, l'hanno tirata a sua mano, hanno forzato la serratura della porta qui d'ingresso e niente dopo sono entrati qui nel chiosco della parte ufficio dove teniamo i beni maggiori diciamo a livello di documenti e di soldi e quindi hanno divelto tutto ma hanno fatto tutto nel giro di poco tempo perché dopo penso che abbia suonato l'allarme e che li abbia spaventati poi dopo sono stati via. Si è ai danni che il fondo cassa sono ancora da quantificare ma Vagnini ci racconta che ha subito un furto anche nell'altro distributore sempre sulla E78 ma in direzione mare tra Lucrezia e Fano. Qui una volta entrati hanno rubato soldi contanti, un blocchetto degli assegni, alcune paia di guanti e diversi litri di olio. Il valore del bottino si aggira attorno ai 5 mila euro. Proprio questa notte adesso ancora stanno facendo i lavori per ripristinarlo perché lì stesso meccanismo, serratura della serranda, hanno rotto la porta d'ingresso e sono entrati e quindi lo stesso in poco tempo dopo lì è intervenuta la vigilanza e i carabinieri però tanto i tempi loro sono molto rapidi quindi non ci sono stati tantissimo quindi quando sono arrivati erano spartiti. La razza nel suo locale però non è stata l'unica perché i ladri si sono diretti anche verso Fossombrone nella stazione di servizio Sasso Nord dove intorno le due hanno spaccato una vetrata anti sfondamento e si sono introdotti nei locali del distributore. Anche qui nel giro di pochi minuti hanno raffatto 100 euro e numerosi blocchi di gratte e vinci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano. Poi verso le 4 gli agenti del commissariato hanno intercettato i malviventi, un gruppo di quattro persone che erano a bordo di una Mitsubishi. È iniziato un breve inseguimento verso la zona dell'aeroporto ma sono riusciti a darsi alla fuga abbandonando il fuoristrada e dileguandosi per i campi. All'interno del mezzo che avevano rubato la notte precedente all'autosalone New Autostar di Lucrezia i poliziotti hanno rinvenuto diversi attrezzi da scasso, guanti, un telecomando e un telefono cellulare. Proseguono dunque le indagini da parte delle forze dell'ordine per cercare di dare un volto ai componenti della banda.